Nessuno sconto della magistratura per gli indagati dell'inchiesta Redder Azionem, legata a presunte tangenti e truffe, nell'affidamento degli appalti per i puntellamenti degli edifici lesionati nel posto terremoto, confermati dal GIP Gargarelle ai domiciliari per i 5 arrestati, accusati a vario titolo di corruzione, estorsione, subappalto irregolare, falsa fatturazione, truffa con fondi pubblici e abuso d'ufficio. Negate inoltre al giovane faccendiere coinvolto, la revoca dell'obbligo di dimora e di firma, l'operazione che complessivamente ha coinvolto altre 13 persone. Tutto a piedi libero, continua ad allargarsi e nel registro degli indagati è entrata anche un'altra persona, un assicuratore, i cui uffici, in via della Croce Rossa, sono stati perquisiti da carabinieri. In procura intanto sono ripresi gli interrogatori per alcuni degli indagati, ai quali viene chiesto di fare luce su un sistema che ha coinvolto politica, o almeno una parte di essa, e il mondo dell'imprenditoria, impegnata nell'attività di messa in sicurezza e ricostruzione posto terremoto.